La grandezza di Hegel, genio assoluto della moderna filosofia, sta anche nel fatto che tutti gli autori venuti dopo Hegel hanno dovuto necessariamente prendere posizione rispetto a Hegel, che è divenuto per così dire il riferimento permanente della filosofia, almeno fino a Nietzsche, seguendo la ricostruzione di Karl Leavitt da Hegel a Nietzsche, tutti gli autori, Nietzsche compreso, passando poi per Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer e tutti gli altri che hanno popolato quella stagione hanno filosofeggiato prendendo posizione contro o per Hegel, distaccandosi da Hegel o sviluppandone plessi teorici fondamentali. Ma già quando Hegel viene meno, quando non c'è più, immediatamente la sua riflessione dà adito a due grandi interpretazioni contrapposte e sorgono allora quelle che solitamente sono presentate come la destra e come la sinistra e Hegeliana, talvolta divise anche come giovani Hegeliani a sinistra e vecchi Hegeliani a destra. Al di là dei singoli nomi e delle posizioni anche molto diversificate e variegate all'interno di ciascuna delle due correnti, possiamo tuttavia individuare due grandi motivi di attrito e di contrapposizione fra queste scuole. Due scuole che, ripeto, entrambe ritengono di muoversi nel solco ideale originario tracciato dal maestro Hegel. Insomma, danno di Hegel due interpretazioni opposte che ritengono tuttavia analogamente e ugualmente fondate nella filosofia di Hegel. Naturalmente qui abbiamo allora un enigma originario. Com'è possibile che da un autore e da un sistema di pensiero possano nascere due tradizioni così radicalmente opposte come quella di destra hegeliana e di sinistra hegeliana? Proviamo a chiarire questo aspetto facendo riferimento anzitutto ai due motivi principali del contendere fra destra e sinistra hegeliana. Il primo motivo è essenzialmente di ordine religioso. La religione nel sistema di Hegel, soprattutto nelle lezioni sulla filosofia della religione, veniva intesa certamente come una delle tre grandi figure dello spirito assoluto insieme all'arte e alla filosofia. E tuttavia solo la filosofia in senso proprio rappresentava l'apice dello spirito assoluto, ossia lo spirito assoluto che coglie la verità nella sua forma più alta, quella del begriff, del concetto. L'arte per parte sua coglie anch'essa la verità ma la coglie nel sensibile, l'elemento meno appropriato. La religione infine coglie l'assoluto nella forma della forstellung, della rappresentazione. Quindi coglie la verità ma la coglie in una forma inferiore rispetto alla superiore saggezza del concetto filosofico. E questo dà luogo a due possibili interpretazioni. Abbiamo per un verso la destra hegeliana che riconosce e rivendica la piena legittimità della religione come fondamento del sapere e quindi non per caso larga parte degli autori vecchi hegeliani o della destra hegeliana finiscono per essere teologi e per abbandonare in molti casi la filosofia per la teologia. Hegel lo ha segnalato, la teologia, la religione coglie la verità tanto quanto la filosofia, sicché far teologia è pienamente legittimo se si aspira a cogliere la verità. Per parte loro i giovani hegeliani, quelli della sinistra hegeliana, sempre prendendo le mosse dall'impianto categoriale di Hegel, riconoscono la superiore saggezza della filosofia e dunque ritengono che non già la religione, bensì la filosofia, sia la forma espressiva e concettuale più idonea per il tempo presente, sicché tutti questi autori si spingono in taluni casi, penso a Feuerbach o a Marx, a criticare aspramente la religione preferendole la filosofia come sapere critico e come forma più adeguata per cogliere lo spirito, per cogliere la verità. Vi è poi un secondo tema divisorio tra destra e sinistra, tra giovani hegeliani a sinistra e vecchi hegeliani a destra, ed è il tema intrinsecamente politico, un tema politico che però, come nelle corde di Hegel, è anzitutto un tema ontologico. È quella di Hegel una visione delle cose conservativo, magari anche reazionaria, o è invece una visione progressista e rivoluzionaria? A seconda della risposta che diamo e che storicamente si diede a questo interrogativo, abbiamo due linee ermeneutiche politiche differenti. Abbiamo per un verso la destra, i vecchi hegeliani che sono conservatori reazionari, che ritengono che in qualche modo in Hegel vi sia la santificazione dello status quo e che dunque si tratti di conservare la realtà così com'è, e dall'altra abbiamo i giovani hegeliani che sono invece vocazionalmente rivoluzionari, antiadattivi, da che ritengono che il cuore del sistema hegeliano sia il movimento, il dialettico superamento degli essenti nel divenire e l'apertura alla rivoluzione, al superamento delle forme cristallizzate. La questione è ancora prima che politica, ontologica, ancora prima del giudizio che vogliamo dare della posizione di Hegel, che sicuramente è stato conservatore nelle sue posizioni, ma mai contro rivoluzionario. Hegel ha dovuto in qualche modo contemperare una forma rivoluzionaria con lo spirito dei tempi e con la censura, direbbero gli autori della sinistra hegeliana, ma il problema è ancora prima che di espressività politica immediata, ontologico. È quella di Hegel una dialettica conservativa o è invece una dialettica rivoluzionaria? Il punto di riferimento nodale diventa allora l'equazione di Vernünftigkeit e Wirklichkeit presente nell'introduzione ai lineamenti di filosofia del diritto del 1821, ovvero Hegel teorizza appunto l'equazione di realtà, Wirklichkeit, e razionalità, Vernünftigkeit. Cosa vuol dire che il reale è razionale? Vuol dire, dicono gli autori della destra hegeliana, che le cose come sono esprimono già una piena razionalità, sicché debbono essere conservate. La conservazione dell'esistente diventa la chiave politica della destra, da che su basi hegeliane parte dal presupposto che il reale sia in quanto tale razionale. In maniera diametralmente opposta, gli autori della sinistra hegeliana ritengono che l'identità di realtà e razionalità in Hegel alluda non già a una realtà morta, già in sé razionale, ma a un processo di razionalizzazione. Dire cioè che la Wirklichkeit, che non è la realität, che invece è una realtà morta, la Wirklichkeit è un processo, è un lavoro dello spirito. Dire che la realtà è razionale significa accogliere nel movimento immanente alle cose un processo di razionalizzazione, sicché non si tratta di santificare le cose per come sono, bensì il processo che porta a trasformarle, aprendosi al futuro. E quindi è nell'idea stessa hegeliana di realtà che abbiamo le chiavi di una visione rivoluzionaria e antiadattiva delle cose. Marx muove da qui, lo stesso Heinrich Heine muove da queste premesse. Insomma, due diverse posizioni politiche, conservativa a destra, rivoluzionaria a sinistra, che ugualmente prendono le mosse da un'identità, quella hegeliana, di realtà e razionalità. Tutto sta ovviamente nell'interpretare il concetto di realtà. Cosa significa dire che il reale è razionale? Che le cose già come sono lo sono, razionali, destra e hegeliana? O che il processo diveniente del reale tende a una razionalità che dobbiamo noi stessi contribuire ad attuare con la prassi, come ritengono a sinistra? Ecco quindi che abbiamo due diverse concezioni del mondo opposte che tuttavia si fondano su quel giano bifronte che sembra essere il pensiero di Hegel.